Questa è una domanda davvero impegnativa, di fatto non si può sapere se appunto come diceva giustamente noi non rilanciamo la crescita, l'unica medicina per provare a recuperare questo debito enorme che si è dovuto fare è evidentemente quello di rilanciare l'impresa, lo sviluppo, la crescita e naturalmente utilizzare anche le risorse europee come leva e come volano per la crescita, però bisogna anche distinguere rispetto a quello che è stato fatto in questi mesi perché dei 150 miliardi e più che sono stati stanziati dall'inizio pandemia di extra deficit, diciamo di nuovo debito, molti purtroppo sono stati dilapidati, non sono stati messi dove servivano, noi siamo ancora in una situazione in cui parliamo di ristori totalmente insufficienti, aziende che moriranno perché non hanno ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato e però abbiamo avuto il bonus monopattini, il bonus vacanze, i banchi con le rotelle, tanti soldi sono stati sprecati laddove non servivano e non sono stati dati dove invece servivano, quindi si dovrà fare altro debito, sì però indirizziamolo bene, non sprechiamo soldi come è stato fatto nell'ultimo anno.